gentili telespettatori buona giornata quando il politico per caso si scontra con l'esperto vince l'esperto 5 a 0 matteo bassetti durissimo con dino giarruso a coffee break dice a lavorare vergogna 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 ma vediamo che cosa è successo quindi sulla 7 nella trasmissione coffee break lite abbastanza sostenuta tra dino giarruso e matteo bassetti il grillino dopo aver sentito le critiche dell'infettivologo sulla campagna vaccinale in italia parte all'attacco bassetti è un medico star della tv io mi fido di più della commissaria ursula von der leyen ma santo dio lei si deve vergognare dice l'altro io sono in ospedale a lavorare si vergogni venga qui a lavorare vergogna 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 dice il direttore delle malattie infettive dell'ospedale san martino di genova che è davvero furioso dice dimostra scarsa educazione continua a parlarmi sopra si lamenta il grillino europarlamentare ma che vergogna quello è direttore delle malattie infettive eologhe all'ospedale di genova e arriva il politico per caso il grillino che va a dire è un medico star della tv mi fido più della commissaria ursula ma che tristezza questi grillini e poi arrivano le sardine che vogliono fare il partito con i politici sorteggiati a casa sorteggione in sala mensa sorteggiamo oggi politici ma che tristezza andrea pancani il conduttore cerca di far loro abbassare i toni peccato che giarruso non abbia alcuna intenzione di calmarsi e continua ad attaccare il medico avete detto un sacco di cose che non stanno né in cielo né in terra ho più rispetto per ursula che per bassetti la presidente della commissione europea ci ha fatto i complimenti per come abbiamo gestito la pandemia mamma mia i complimenti di come abbiamo gestito la pandemia a giarruso siamo stati per tanto tempo il primo paese per numero di morti siamo stato il tanto tempo il primo paese per numero di contagi conte si pavoneggiava mi telefonano tutti i capi d'estato di tutto il mondo per sapere e complimentarmi perché noi siamo d'esempio l'esempio di quello che non c'è da fare probabilmente qualche capo di stato lo chiamava gli senti giuseppe tu cos'è che stai facendo noi facciamo l'opposto ecco come non fa come fare come come non l'italia sono ingarbugliato no ecco fare come non fa l'italia ecco questo erano era l'intenzione dei capi di stato che telefonavano a giuseppe bassetti dice è un medico ma non è presidente della commissione web e beh certo è ognuno fa il suo lavoro però in caso di malattie e quello che sa le cose il medico non ursula von derleyen e dice così il grillino la ursula ha fatto i complimenti a giuseppe conte pancani lo interrompe di nuovo gli ricorda che era la fase iniziale no ma niente da fare giarruso insiste era il 15 febbraio scorso bassetti parla di medicina ma se posso permettermi di politica ne capisce un po meno e passa e dice alcune dichiarazioni del del medico dice il coronavirus è più simile all'influenza che all'influenza che alla peste bubonica chi lo disse bassetti chieda scusa attacca di nuovo giarruso bassetti era assegnato allarga le braccia dice inutile che risponda a questo signore questa affermazione era prima della pandemia scoppiata nel 2020 beh insomma guardate che ha ragione l'infettivologo il coronavirus è più simile a un'influenza che alla peste bubonica la peste bubonica ha ammazzato il 90 per cento dei milanesi ai tempi ecco qui ammazza il 2 per cento ecco è ovvio il covid è più vicino a un'influenza che alla peste bubonica ha ragione l'infettivologo ma il politico per caso grillino questo è il problema di queste persone che credono realmente di aver ragione solo perché si freggiano del titolo il titolo di onorevole eurodeputato realmente credono di potersi fronteggiare con medici infettivologi con persone di esperienza persone che hanno studiato medicina per 7 10 anni che hanno fatto hanno studiato dei libri interi per fare degli esami io lo so io lo so sono stato vicino a persone che hanno fatto medicina e guardate che io non sarei mai riuscito ad essere un medico mi ricordo libri così libri quasi a memoria per poi affrontare l'esame io non sapevo mi sono sempre chiesto come si fa memorizzare un libro dove ogni ogni frase devi ricordarti qualcosa dei termini come fai a memorizzare un libro a sostenere un esame io me lo sono sempre chiesto io ho visto medici che poi hanno fatto questi esami io mi sono sempre chiesto ma come cavolo fanno ma libri così di 800 pagine quasi a memoria tu aprivi il libro gli facevi una domanda loro ti rispondevano ci come hanno fatto a memorizzare un intero libro quindi un po di rispetto anche per chi ha studiato medicina è un po di rispetto che il giarruso se non sbaglio è una ex iena vero o mi sbaglio forse sì che il giarruso va da dire mi fido della ursula perché ha fatto i complimenti a giuseppe si infonde la tristezza veramente infinita quindi quando si scontra un medico con un grillino vince il medico 5 a 0 senza dubbio alla fine come come ha fatto bassetti ai grillini non è neanche non non rispondere neanche lascia perdere di fronte a certe persone che dicono certe cose bassetti dice non rispondo a questo signore ci parli lei che l'ho invitato nella trasmissione ma lasciamo perdere io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata siamo anche in facebook nell'altro canale di youtube tele italia seconda rete io vi ringrazio nuovamente per avermi ascoltato nella community del canale trovate anche tanti sondaggi ai quali poter partecipare e commentare ci vediamo al prossimo video se avete voglia di ascoltarmi ancora arrivederci a tutti grazie per avermi ascoltato grazie per avermi ascoltato grazie per avermi ascoltato